ciao a tutti bentorni sul canale traduzione canzoni e canzoni spiegate in questa puntata andiamo a parlare di una di una canzone che è diventata un inno per chi ama la musica appunto rock e infatti il titolo è I love rock'n'roll che significa io amo i rock'n'roll questa canzone però ebbe una storia molto controversa perché è stata la cover di una cover di una cover quindi ha avuto diversi passaggi e non è così semplice appunto come come sembrerebbe la nascita di questo di questa di questo inno perché la canzone come vedremo poi tra poco è stata scritta nel 75 da alan merrill degli arrows una band inglese ma non diventa famosa subito questa canzone ma diventa famosa qualche anno dopo grazie a john jett e di black hearts perché che succede praticamente questa canzone è uscì nel 75 da questo da questa da questo gruppo ma non ebbe il successo sperato perché comunque il produttore di quella casa discografica spingeva per altre canzoni qualche anno dopo i arrows cantarono questa canzone in un diciamo in un programma televisivo e fu ascoltata la prima volta da john jett che se ne innamorò e che la propose al suo diciamo la sua alla sua band ma non appunto non non gli fu promossa questa questa chance la terza volta sempre john jett la ripropone con un gruppo con un gruppo perché poi si sciolgono da quello vecchio e anche questa volta non ha il successo sperato ma siccome questa donna aveva e ha comunque la capabilità e era convinta che questa questa canzone avrebbe sfondato la cosa fa si scioglie un'altra volta da questo gruppo e ne crea un nuovo che si intitola appunto john jett che si chiamano john jett the black hearts e addirittura crea una casa discografica e questa volta la canzone spacca e diventa addirittura una delle canzoni più più belle dei 500 nella classifica dei 500 della rivista rolly stones e quindi siamo molto contenti perché a volte a volte la capabilità si viene premiata viene premiata anche quando sembra sembra impossibile che le proprie idee abbiano abbiano diciamo successo e quindi è stata questa canzone ha avuto questa questa storia intricata complicata e l'ultima volta che l'abbiamo sentita nella cover è stata britain spears che anche lì non non fu molto fortunata e quindi l'unica diciamo interprete perché non ha scritta lei l'unica interprete che è fatto diventare questa canzone una hit mondiale è john jett e quindi fino a qua mi sembra che sia tutto chiaro e anche il video molto bello con bianco e nero dove si vede proprio lei allora in questo caso c'è l'autore che ha scritto questa canzone maschio quindi lui lui parla di un maschio che va da una femmina però nel video è il contrario perché la cantante è la protagonista del video e trova questo ragazzo al jukebox dentro questo locale e quindi noi la tradurremmo con la traduzione di un maschio che conosce una femmina quindi anche per i pronomi sono maschili e quindi come avevo detto l'atmosfera di questa canzone è veramente da festa veramente molto punk anche anche lei nel video e chiudiamo gli occhi quindi proprio possiamo vederlo come come nel video come in un locale col jukebox che mi ricorda appunto gli anni 90 fino a che ci furono gli jukebox diciamo fino anni 90 dove dovevi mettere le monedine per ascoltare la canzone per mettere la musica e conoscere comunque persone e quindi era veramente questo jukebox questa atmosfera jukebox penso che sia la chiave della canzone veramente originale e veramente ti riporta a quei tempi che sono ormai lontani in cui ormai la canzone basta digitarla su qualsiasi piattaforma e escono milioni e miliardi di cover milioni di migliaia di canzoni di fat eccetera invece prima bisogna mettere la monetina e sentire la canzone quindi sono veramente medioevo però medioevo bello medioevo che comunque anche noi che l'abbiamo vissuta parzialmente cioè verso la fine alla proprio la quasi alla fine dell'onda ce lo ricordiamo comunque con piacere quindi come abbiamo detto è un successo senza tempo che ha fatto il giro del mondo una sorta di inno del rock per questo è noto a tutti quella famosa versione che ne fece la reginetta del pop britain spears nel 2002 è una cover del pezzo dotato 82 di john jett ma a sua volta è una cover scritta da alan merrill degli arrows nel 1975 e nasconde una lunga storia molto rock e roll in cui entrano i rolling stones i sex pistols e i telefilm ai confini della realtà in merito della nascita del famosissimo riff va agli arrows una band inglese degli anni 70 formata dal cantante alan merrill la regina dava che un giorno guardando top of the tops mi loro rolling stones presentare il suo nuovo singolo il loro nuovo singolo it's only rock and roll but i like it merrill che aveva incontrato qualche volta jagger ne restò molto colpito sapeva che era amico di molti personaggi dell'autoristocrazia e del jet set e gli sembrò quasi che quella canzone fosse un modo di chiedere scusa per il suo stile di vita rock e roll e così alan miller compose la canzone che parla di un ragazzo che vede una ragazza ballare vicino a un jukebox con una particolarità aveva composto il ritornello e sapevo che poteva essere una hit ho pensato farò qualcosa di veramente insolito lo scriverò come qualcosa di staccato dalla canzone il ritornello è pensato come una canzone di successo che i due ragazzi sentono provenire dal jukebox sembrava come nel telefilm ai confini della realtà ero sicuro che il pezzo sarebbe stato un successo questo l'ha detto alan miller poi come abbiamo detto dopo la terza volta di prove di cercare di portare questa canzone ai massimi senza successo john jet non è tipa che che molla subito è una delle prime donne rock della storia la mia rabbia insieme a quella di tante altre donne del mondo della musica deriva dal nostro passato ci dicevano in continuazione che le ragazze non potevano suonare la chitarra a scuola le mie amiche coetanee suonavano tutto il violino o il violincello non riusciva a vedere nemmeno uno spiraglio di opportunità lo obbligavano a stare in silenzio e composta di comportarsi come signorina e questo è un assist per riportarci a quello che dicevamo l'ultima puntata dei think floyd another blick in the wall in cui appunto si parlava di questa educazione che davano a scuola in cui tu dovevi stare zitto e ascoltare soltanto quello che dicevano loro altrimenti non potevi parlare non c'era libertà perché c'erano questi maestri questi insegnanti che davano soltanto il pensiero unico e e quindi tu eri diciamo eri un mattone nel muro e così john jett decise di creare un'etichetta tutta sua la black records e fondo al gruppo dei black girls e c'era una canzone in cui poteva credere ciecamente dal messaggio forte e chiaro i love rock e roll era il 1982 finalmente il singolo sci e raggiunse al successo scalando le classifiche di vendite di tutto il mondo oggi è un classico rock ed è riconosciuto in assoluto come il suo brano più famoso quindi quello che abbiamo detto e questa la confermo poi vediamo di cosa parla la canzone la canzone unino al rock è la celebrazione di questa forma di forma artistica la canzone racconta un giovane che balla la sua canzone preferita al job box e senza desideri unirsi a lui nel ritornello il giovane incoraggia l'ascoltatore a ballare insieme e a mettere un'altra moneta per continuare ad ascoltare la musica che stanno ballando questo invito riflette l'idea di una condivisione e coinvolgimento incoraggiando tutti a partecipare e unirsi nella magia della musica rock si crea un ambiente in cui nessuno si sente escluso ma invece tutti sono invitati a festeggiare e a lasciarsi trasportare dal ritmo il messaggio generale è di celebrare di esprimere amore per la musica rock in tutte le sue forme la passione di john traspare attraverso una parola e accordo la sua voce grintosa e l'energia travolgente del brano catturano l'essenza di ciò che la musica rock rappresenta ribellione autenticità e canzone di libertà è incredibile come la musica possa unire le persone superando barriere differenze e i love rock roll è il perfetto esempio di come una canzone possa essere un simbolo di gioia e comunità e quindi questo è di appunto una grandirina di cosa parla ma veniamo nel dettaglio della canzone che inizia dicendo per la traduzione i saw him dancing there by the record machine quindi io l'ho visto sul passato di to see lobbies ho visto lui ballare lì vicino al al registratore alla jukebox i knew he must have been about 17 quindi io knew è sempre il passato io sapevo che aveva e poteva essere sulla poteva avere dei 17 anni the beat was going strong playing my favorite song il beat è il ritmo quindi il ritmo stava andando sempre più forte stava andando forte suonando la mia canzone preferita and i could tell it wouldn't belong until he was with me quindi io potevo dire potevo affermare che sarebbe passato poco tempo da lì a quando noi saremmo stati insieme quando lui sarebbe stato con me singing i love rock roll cantando io amo il rock and roll so put another dime in the jukebox dime sono le monetine quindi così metti un'altra moneta nel jukebox baby tesoro io amo rock and roll so come and take your time and dance with me quindi così quindi vieni prenditi il tuo tempo e balla con me he smiled so i got up and asked for his name quindi lui ha sorriso così io mi sono alzato e ho chiesto il suo nome but that don't matter he said because it's all the same ma matter vuol dire importare quindi ma non importa ma non importa ha detto perché è la stessa è la stessa cosa è lo stesso he said can i take you home where we can be alone e lui ha detto che posso portarti a casa dove noi possiamo stare da soli and next we are moving on he was with me e poi andiamo avanti e lui e lui era con me e poi andiamo andiamo avanti cioè si andiamo siamo in movimento e andiamo avanti e lui la stessa la stessa vecchia canzone e quindi questa traduzione poi che si possa appunto tradurre sia per quanto riguarda un uomo verso una donna che una donna verso un uomo anche se quello della donna verso l'uomo potrebbe essere più giusto per quanto concerne appunto il tema della della donna che cerca di prendere in mano la situazione e di cerca di ribollarsi e quindi in questo caso la donna attiva che va appunto a conoscere questo questa persona questo ragazzo al jukebox e che gli dice di portarlo a casa e di stare insieme da soli quindi poi questo dipende dalla chiave di lettura e niente quindi questa è la traduzione di questo capolavoro che ha fatto la storia della musica rock mondiale e ha avuto una storia complicata intrigata però alla fine è riuscita ad essere nelle 500 migliori canzoni della storia e quindi mi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivervi al canale traduzione di canzoni e canzoni spiegate per continuare insieme questo percorso di traduzione di canzoni di musica inglese, spagnola ma anche di altre lingue e anche in italiano per capire i significati e il traduzione di questi capolavori che hanno fatto che faranno la storia della musica internazionale ma anche italiana e quindi ragazzi riascoltatela attentamente con la traduzione, guardate il video che è molto carino, molto bello, in bianco e nero che ricrea l'atmosfera della canzone con I Love Rock and Roll di John Jet and the Black Hearts per il momento è tutto, alla prossima, ciao!